incontro nel cuore di salerno dell'arte moderna con il cinema è stata un'apertura fastosa quella che si è celebrata sabato sera in pieno centro con l'inaugurazione dei nuovi ed ampi spazi espositivi della nuova galleria d'arte moderna gam che non è passata inosservata per l'arrivo a pochi passi dalla stazione di salerno dell'affascinante attrice francese corin clery l'occasione quella di presentare a salerno dopo la mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia free liberi opera seconda di fabrizio maria cortese che vede nel cast sandra milo corin clery enzo salvi antonio catania e ivano marescotti che vede in qualità di sponsor del film anche il salernitano mirko mele che da anni collabora con la ismaele film mele curatore e direttore artistico del nuovo progetto gamma galleria d'arte moderna grazie a questa lunga collaborazione con la casa di produzione salentina ha portato in mostra a venezia ben 19 artisti che hanno potuto esporre le proprie opere molto ammirate dagli ospiti della mostra di venezia è la seconda tappa dopo il festival siamo stati con fabrizio maria cortese gli attori principali corin clery antonio catani ivano maria scotti al festival dopo una settimana siamo arrivati nella location prestigiosa di salerno il mio nuovo gioiello che diventerà lo è già diventato il il punto di riferimento dell'arte a livello regionale non solo a livello cittadino cosa sarà gamma salerno soprattutto dopo l'inaugurazione alla presenza di corin clery perfetto gamma sarà ripeto un ponte di congiunzione fra il sud e il nord perché gamma avrà sede a parma avrà sede a lecce quindi per i nostri collezionisti i nostri artisti c'è la possibilità di cavalcare tutto lo stivale da parma da milano a lecce per poi arrivare nel nostro territorio a salerno la pittura e quadri presenti qui questa sera sono stati protagonisti anche di diversi cortometraggi e film sì il primo è stato free liberi stasera abbiamo gli attori come ripetevamo prima ci sa e c'è stato dies col vaticano 120 sale cinematografici in tutta italia a breve ci sarà un altro cortometraggio che faremo con enzo salvi fra teatro e cinema quindi possiamo dire che c'è un connubio fra queste arti perché il cinema lo è il teatro lo è ma qua c'è tanta arte stasera dagli storicizzati alle mie spalle mimmo rotella da andy waro il genio della pop art agli artisti in vita che sono gli artisti del nostro gruppo dipinti disegni sculture installazioni espressioni delle principali correnti artistiche degli ultimi decenni dal neoclassicismo all'impressionismo dal futurismo e surrealismo al più significativo nucleo di opere di arte del movimento artistico contemporaneo italiano hanno fatto da cornici al grande evento che ha battezzato la nascita in corso garibaldi della nuova galleria d'arte moderna un vero party dove la regina dell'evento è stata l'attrice francese corin clary protagonista del film free liberi una commedia che vuole portare una ventata di ottimismo e vuole celebrare il bello di avere sogni e aspirazioni a tutte le età una storia positiva di speranza e ottimismo per la ripartenza dell'industria del cinema dopo il lockdown che sarà nelle sale italiane dal prossimo 29 ottobre è un film di speranza per la terza età un film allegro anche ma pieno di sentimenti quindi il momento giusto credo pieno di dettagli di sfumature e forse adesso la gente pensa forse in modo diverso si comincia a ritornare i valori non sarebbe male e quindi fabrizio è stato meraviglioso mi ha fatto un gran bel regalo mi ha dato un ruolo che aspettavo da anni e lo ringrazierò sempre dico sempre che è un regalo che mi ha fatto poi capirete perché perché c'è un perché parte lo dice lui perché non lo dice lei e lo devo dire io allora parto molto invecchiata cioè no reale nel senso che se tu metti una brutta la luce puoi diventare vecchia giovane bella se metti la luce bella e lui giustamente volutamente ha messo una luce molto cruda senza trucco ma non è tanto il trucco proprio cruda contro luci quelli proprio di taglio terribili dove io sono molto molto segnata e a me piace questo devo dire che mi sono impegnato tantissimo perché è difficile è difficile lo vedrete ma c'è il suo perché perché io sono nonna ho 70 anni e c'ho la vita davanti e quindi non voglio vivere come una ragazzina non voglio sono già fortunata voglio vivere la mia età con spensieratezza con positività e dare un esempio e un messaggio alle nonne alle donne grandi che hanno ancora tanto tempo davanti perché l'età è ritardata calcolando come era al passato no quindi è un messaggio molto positivo salerno con questo importante progetto cinematografico si lega il cinema all'arte e alla pittura beh io ho sempre sostenuto ho sempre pensato che un buon film anzi un film è come un bel quadro un bel dipinto alla fine dopo il montaggio si vede il risultato quando un pittore quando si vede un quadro bello dice cioè rimani rimani ecco il film è come un bel dipinto io l'ho sempre detto una bella scultura un bel dipinto quindi c'è veramente un nestro molto 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 forte